e gli dobbiamo fare un po' di cose che bevete? lambare di sale per il fame iniziale grazie di che loro buona giornata questo è il diffusore per la monografia perfetto ah, questo c'è il mio negozio preferito, quello delle pente ah, questo è il mio negozio no, no questo è il mio negozio ecco 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 io volevo fare ost proprio il sole giusto è il sole che ci mettiamo a Catania grazie a lei però iniziale c'è questa è la vera è la vera è la scrittura assolutamente ce l'ho già un video grazie 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 grazie